E per la serie intrugli strani dal mondo, dal mondo dei bijoux di Rick, eccoci qui pronti per una nuova sfiziosa merenda. Tanti idee vi lanciamo ogni tanto e quella di oggi riguarda una merendina ma anche una colazione estiva potrebbe essere, perché no? Andremo a mangiarci questo bel yogurt greco, yogurt oikos al gusto dei mirtilli, banana, pavesini e cornflakes, pronti? Allora i cornflakes li vado a mettere solamente per me, anche perché Rick non li mangia per vari motivi e vabbè, sai che bricci come bambini. Qui ho messo i pavesini e adesso andrò ad aggiungerli anche qui nella mia porzione, sì, perché io sono super golosa e quindi non so rinunciare neanche al gusto dei pavesini al cacao. E uno lo diamo anche al nostro Fly, ciao Fly, saluta, saluta, saluta il tuo pubblico Fly. Seduto, 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 seduto Fly, Fly, seduto, 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 seduto Fly, seduto, bravissimo Fly, ecco il pavesino. Mettiamo adesso il nostro yogurt ai mirtilli, sono ottime queste idee con lo yogurt greco, anche perché ha 0% di grassi ed ha un gusto veramente ottimo rispetto allo yogurt italiano. Non so, forse sono specializzati per lo yogurt greci. Ed eccola qua, un'idea rinfrescante e spiziosa per una colazione estiva ma anche per una merenda, quindi vi ho dato due in uno, due spunti. Spero che questa videoricerca vi sia piaciuta, like e pollice in su, iscrivetevi al nostro canale se per caso non l'avete fatto per essere aggiornati con tutto ciò che gira intorno ai bijou di Rick. Bye bye!